Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili dove per lavori si segnalano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Per questi lavori è stato chiuso lo svincolo di Montelupo Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze spostandoci in A1 in direzione Bologna chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di Valico Bacchieraia e Aglio. In A12 per lavori coda e tratti tra Massa e Versilia e Traversilia all'allacciamento con raccordo Luca-Viareggio verso Rosignano. Ed è tutto, buon viaggio!